Qualcuno ha detto internazionale? Non è il 23, il 18, il 23 c'è la bastoni, fa niente. Però ragazzi, abbiamo fatto cagare. Abbiamo fatto cagare. Una partita di una palla mortale, ma ha segnato il capitano, Nicola Barella, con la fascia del capitano, con la maglia dell'Italia, torna a segnare. Sono veramente contento per Nicolò. Però ragazzi, a parte questo, ragazzi, questa è una partita da narcolessia, più totale. Un gol al terzo minuto e un gol al novantatresimo. Cioè proprio agli antipodi. Cioè proprio non è successo un cazzo in mezzo alla partita, ma veramente un cazzo? Veramente un... ma zaniolo di un... zaniolo. Mamma, bloccatelli, zio cantante, madonna mia, Mancini. Allora, vabbè, ma allora Mancini ancora, ancora. Ma zaniolo, ragazzi. Ha sbagliato una roba davanti al portiere che... Ma penso neanche... ma penso che anche io la facevo quel gol lì. Che io che non... che ho i piedi quadrati. Che se tiro un pallone lo tiro su nel terzo anello. L'avrei messo dentro anche io quel pallone lì. Ma veramente, ma... ma un qualcosa di... 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 Cioè ragazzi, c'è da dirlo. C'è da dirlo. Quando nell'Italia giocano i giocatori che vengono da questa squadra qua, quando i giocatori di Marco, Bastoni, Darmian, Barella, Fratesi, giocano in questa squadra, l'Italia, guarda caso, gioca meglio. Perché contro la Colombia, contro il Venezuela, abbiamo fatto schifo ancora di più di oggi. Però... perché c'era solo Fratesi. Però comunque alla fine abbiamo fatto schifo. Ma oggi abbiamo fatto molto meglio. Perché? Perché c'erano gli interisti. Perché gli interisti, i giocatori dell'Inter, sono tutti giocatori di grande qualità, di grande tecnica. E guarda caso, chi sono i migliori. Di Marco, Bastoni, Darmian, Barella e Fratesi che ha fatto praticamente... Ha recuperato lui la palla. Ha recuperato lui la palla per poi... per il contropiede dell'Italia. Però ragazzi... veramente poca roba. A parte questo, veramente poca roba. Queste amichevoli dovevano darci delle vibes. Dovevano darci delle risposte. Però ragazzi... veramente... veramente... un qualcosa di... di... di noioso. Ragazzi, siamo noiosi. Abbiamo avuto... nel primo tempo, ancora ancora, nel primo tempo abbiamo fatto bene. Bellanova che, ragazzi, ci tengo a sottolineare soprattutto ai miei colleghi interisti. Io Bellanova l'avevo sempre detto che era un calciatore su cui bisognava puntare. Guarda caso adesso è un buon giocatore. Perché col Torino sta facendo bene. Il nazionale oggi ha fatto anche bene. Anche l'ultima volta contro il Venezuela ha fatto bene. Quindi, ragazzi, avremmo dovuto tenere Bellanova. Perché, ragazzi, vedete che... Credere nei giovani serve. Adesso Bellanova è diventato un buon giocatore. E se andate... se un giorno lo rivolete dovete pagare... Più di 20 milioni. Perché è un giocatore che sta crescendo. E che è un giocatore con grande potenzialità. Detto questo, ragazzi, però le cose buone finiscono qua. Perché il secondo tempo, a parte il gol nel finale, non è successo niente. Ma veramente niente. Ma ci siamo fatti mettere sotto dall'Equador. Che, ragazzi, con tutto il bene, l'Equador ha solo... Ha tre giocatori buoni. Incapié, che gioca nell'Everkusen. Caicedo, che gioca nel Chelsea. Il giocatore da 120 milioni, che ne costa... Che ne vale 20. E... e Stupignan. Basta. Tre sono i giocatori buoni che ha l'Equador. Cioè, ragazzi, non si può faticare così tanto contro l'Equador. Abbiamo visto Vicario, sì, ragazzi. Poi, ragazzi, tutte le critiche a Donnarumma. A me fate girare estremamente i coglioni, eh. Perché Donnarumma e Vicario non sono... Cioè, Donnarumma e Vicario sono sullo stesso livello in questo momento. Sono entrambi affidabili. Io, chi insulta Donnarumma, chi degrada Donnarumma, perché semplicemente è di parte, è milanista, oppure semplicemente non capisce un cazzo. Perché dire che Donnarumma è scarso o è inferiore a Vicario vuol dire non guardare il calcio, vuol dire guardare solo gli errori, non guardate le statistiche che ha Donnarumma in Francia col Piesino, le guardate, guardate solo il vostro Vicario, che sembra un fenomeno che gioca nel Tottenham, perché, ragazzi, nell'ultima partita ha preso tre gol dal Fulham. Cioè, non è che sia... Anche lui, come tutti i portieri, commettono degli errori, ma li ha commesse anche Gigi Buffon. E comunque è uno dei portieri più forti della storia del calcio. Non penso che Buffon venisse messo alla gogna perché sbagliava qualche gol. Che cazzo. Donnarumma viene messo alla gogna semplicemente perché ci sono i milanisti che sono dei rimbambiti e continuano a rosicare sul fatto che ha scelto di andare via dalla loro squadra che ha fatto bene, perché guarda come sono messi adesso. Una squadra che veramente va avanti solo con aiutini e con i presidenti che non si sa neanche di chi sia il Milan. Però questi sono dettagli. La sosta nazionale finisce qua. Ci ha massacrato a noi interisti perché devrai fortunato. Sommere infortunato. A Cerbi non si sa. Boh. A Cerbi non si sa. Per fortuna non abbiamo nessun altro ai box. Dovrebbe rientrare Carlos Augusto, chi lo sa. Però boh. Però questo era un video dell'Italia. Però ragazzi non c'è un cazzo da dire su questa Italia. L'Italia non ha fatto un cazzo. Abbiamo fatto due gol. Uno al terzo minuto. Un bel gol di Pellegrini con la ribattuta su punizione. Di Marco prende la barriera. La palla torna indietro. E Pellegrini tira una fucilata dentro la porta. Un bel gol del capitano della Roma. Però ragazzi a parte questi due gol di Barella e Pellegrini. Non è successo un cazzo. Riteghi deve essere. Parentesi. Riteghi all'europeo deve essere il titolare. Punto e basta. I titolari li sceglieremo. Ma ragazzi Locatelli, Zaniolo, Mancini, Locatelli e qualcun altro non deve presentarsi agli europei. Cerchiamo di fare una lista con vocati decente. E cerchiamo di non fare figure di merda agli europei. Perché queste amichevoli mi hanno dato più vibes negative che positive. Ci sono delle cose buone. Ci sono. Però ragazzi bisogna lavorare parecchio se vogliamo essere competitivi contro le altre. Perché queste amichevoli abbiamo giocato contro Venezuela ed Ecuador. E abbiamo faticato contro Venezuela ed Ecuador. Cioè io non voglio vedere contro Albania ma Croazia e Spagna. Non voglio vedere. Non voglio vedere. Cioè io spero di arrivare bene a Euro 2024 perché se no usciamo subito. Quindi ragazzi detto questo io vi ringrazio. Ci vediamo nei prossimi giorni perché tanto tornerà a ricominciare il campionato come sapete tutti. Io vi ringrazio se avete visto fino alla fine. Vi ricordo che per supportare il canale me e il canale lasciate un bello mi piace. Condividete il video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella così che almeno quando pubbliche video anche sull'Italia voi lo sapete subito. Io vi ringrazio ancora una volta a tutti. E noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao ragazzi.